Bellante per la prima volta istituisce un doppio servizio di bus navetta e taxi sociale a servizio dei cittadini che non sono automuniti. Con i fondi ottenuti da un programma ministeriale, il Comune ha acquistato un van dotato di nove posti. La navetta avrà il compito di collegare le tante frazioni del territorio per raggiungere uffici pubblici e servizi, mentre il taxi si occuperà di trasportare gli utenti per usufruire di particolari esigenze sanitarie. Il bus navetta, la navetta sociale, consentirà alle frazioni di essere collegate e consentirà agli utenti poi di poter raggiungere gli uffici pubblici, di poter raggiungere i servizi, ad esempio gli uffici comunali, la banca, l'ufficio postale, le farmacie e anche gli ambulatori dei medici di base. Invece il taxi sociale è un servizio che verrà attivato su chiamata, quindi su prenotazione dell'utente e consentirà all'utente di raggiungere gli ambulatori dei medici specialisti, di raggiungere i centri di cura e di riabilitazione, gli ospedali per esami clinici e per visite mediche. L'esigenza è nata dal fatto che abbiamo un territorio molto vasto e purtroppo non è molto ben collegato, cioè il servizio di trasporto pubblico è abbastanza carente, per cui gli utenti a volte hanno difficoltà a raggiungere le strutture ospedaliere, gli ambulatori dei medici e quindi abbiamo ravvisato questa necessità di attivare, di istituire questo servizio. E' stato reso possibile grazie ad un finanziamento ministeriale destinato alla riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e quindi ci sono varie linee di azione. Una di queste era proprio destinata al trasporto dei disabili e con queste somme, con questo finanziamento, noi abbiamo acquistato un mezzo nuovo per il trasporto di nuove utenti ed è stato allestito anche per il trasporto di disabili in carrozzina. Partirà a breve, ovviamente tutti, l'invito che io rivolgo ai nostri concittadini è quello di presentare la richiesta di utilizzo al comune, va compilata e va poi rinviata al protocollo del comune o personalmente o attraverso la mail o attraverso la posta certificata. Grazie. 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 Grazie.